Noi siamo sicuramente soddisfatti di questa partita a dieci giorni dall'inizio del campionato perché giocare per buona parte della gara ad armi pari con la squadra di A1 credo ci dia delle sensazioni positive ma anche delle conferme su alcuni aspetti del gioco. Abbiamo avuto una flessione vistosa nel terzo quarto dalla quale però, questo è un altro segnale positivo, siamo riemersi con un quarto quarto sicuramente molto intenso, magari non sempre ordinato ma di grande atteggiamento. Se togliamo il terzo quarto sui restanti 30 minuti in teoria il parziale è a nostro favore quindi credo che a maggior ragione dobbiamo fare delle valutazioni positive però al di là del contesto della partita credo che le indicazioni migliori ci vengano da alcune cifre cioè il fatto che più o meno panchina e quintetto abbiano un contributo di punti quasi paritetico, il fatto che abbiamo cinque giocatori in doppia cifra di punti, quattro in doppia cifra di valutazione. Credo che proprio sia l'idea del gruppo e del contributo che tutti devono dare che sia quella che sta crescendo e sta maturando e questa verifica come dico a dieci giorni del campionato era importante per noi. Allora la partita è che abbiamo avuto alti e bassi però obiettivamente la cosa più importante era inserire i nuovi giocatori Dennis e Engin e obiettivamente devo dire che si sono inseriti molto bene. Comunque alla fine è una buona partita, possiamo essere di certe volte soddisfatti però continuare a lavorare, lavorare, lavorare. Allora, con oggi sostanzialmente finisce la nostra pre-season in quanto alle partite amichevoli, dunque avete potuto vedere come all'inizio la squadra era ancora in una fase possiamo definire ancora un po' di preparazione, quindi l'approccio è stato un approccio evidentemente non ottimale, però devo dire che mi è piaciuto stasera molto la reazione che la squadra ha avuto perché comunque dobbiamo avere chiaro che per questi ragazzi la prima volta davanti al loro pubblico partire male. Venivamo da una sconfitta comunque contro Cantù, è vero come avevo dichiarato dopo la partita che il risultato mi interessava il giusto, però comunque i ragazzi sono ragazzi sensibili, dunque si veniva da una sconfitta pesante e cominciare qui meno 9, meno 10, adesso non mi ricordo quant'era il parziale, evidentemente non era facile, però loro sono stati molto bravi, i ragazzi hanno fatto secondo me una parte centrale di partita molto consistente, molto buona, siamo riusciti a breccare, abbiamo avuto dei buoni momenti di palacanestro e sono convinto che adesso in questi ultimi giorni che ci separeranno dall'inizio delle competizioni ufficiali avremo modo ancora di più di scioglierci e di prendere fluidità e ritmo per quelle che sono le nostre dinamiche sia di attacco che di difesa. Dunque sono contento di questo, c'è ancora tanto da lavorare, dobbiamo un po' limare questi up and down che abbiamo proprio di concentrazione, soprattutto stasera non mi è piaciuto tanto come abbiamo finito la partita, nel senso nel time out volevamo, siamo usciti con l'idea di incrementare ancora un po' il vantaggio, abbiamo invece preso un brecco contrario di 7 punti, ecco questa è una roba sulla quale immediatamente dobbiamo porre attenzione e cercare di continuare a mantenere una intensità di gioco e soprattutto mentale importante fino alla fine. Non sono sinceramente situazioni insormontabili, dunque sono situazioni che con il lavoro si possono sistemare, dunque alla fine di questa precisione sono onestamente molto soddisfatto, molto contento e vedo una squadra che essendo tutta nuova e avendo comunque inserito due giocatori molto importanti non più di una settimana fa, a stasera cominciò a vedere delle intese, delle dinamiche e oserei dire anche già un'identità quantomeno offensiva molto chiara. Stasera ho visto che abbiamo avuto tanti assist dalle statistiche, indice questo del fatto che la squadra è predisposta a giocare insieme, a passarsi la palla e voi sapete quanto per noi è importante sviluppare questo tipo di atteggiamento e questo tipo di fondamentale, dunque sono sinceramente molto contento e guardo avanti con grande, grande, grande ottimismo e non vediamo l'ora di cominciare le prime partite ufficiali e questo battesimo in Europa del 29 settembre.